Arianna Grande Arianna Grande, hackerato il suo account Instagram Arianna Grande è finita nel mirino degli hacker. . Dopo mesi emotivamente molto pesanti per via dellattentato terroristico che lo scorso 22 marzo colpì proprio il suo concerto a Manchester, la cantante americana si è ritrovata alla prese con una violazione del proprio account Instagram. . Sul profilo della cantante, divenuta in questo 2017 il simbolo della lotta al terrore seminato dai fondamentalisti islamici, sono apparsi dei contenuti accompagnati da frasi razziste e offensive. . 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 CASEYAL VONDERING WHY WE'RE DEMANDING RESPECT-CANCELLETTO RESPECT ARIANA P.TWITTER.COM BARRAS INDIC CT FAB. CHIOCCIOLA TATTUO ED STIDIA, 4 AGOSTO 2017. . Anche i tantissimi e le tantissime fan di Ariana hanno subito notato gli stranissimi aggiornamenti della Conte, quando hanno realizzato quello che era successo, hanno lanciato lhashtag cancelletto RESPECT ARIANA, finito presto tra le tendenze di Twitter, per chiedere a gran voce di lasciare in pace la loro eroina. . . Ben presto la cantante e il suo staff si sono resi conto della violazione, cancellando tutti i contenuti volgari che nel frattempo hanno cominciato a circolare tra gli utenti dei social network. . 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